Chiedevano illecitamente l'abbonamento a riviste delle forze dell'ordine le quattro persone denunciate dai carabinieri di Venezia per truffa, aggravata, frode in commercio, violazione dei diritti di proprietà industriale delle forze armate. I malfattori contattavano persone di ogni età, ma prediligevano gli anziani, nel caso specifico anche le suore del monastero delle Clarisse della Giudecca. L'indagine è nata lo scorso settembre dalla segnalazione di un pensionato veneziano. I carabinieri hanno teso la consegna del pacco e intuito subito che si trattava di una truffa. L'arma dei carabinieri invita chiunque sia stato coinvolto in casi analoghi a segnalarlo immediatamente al 112.